ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video siamo in partita subito su brawler con queste due persone sono con edgar oggi faremo brawl stars insieme a capitane s che purtroppo non faremo una partita a te stessi insieme e niente adesso sto giocando io ragazzi non sono non siamo non sono proprio un pro io perché ho cominciato da poco come vedete o edgar perché però c'ha 6.000 ciamazzine che sono forti e li ho trovati da poco con fortuna perché veramente ho cominciato da pochissimo ragazzi una settimana e mezza solo che davvero ho qual è il vostro youtuber preferito scrivetelo nei cavolo di commenti e poi visto che giordano incominciato da giocare a giocare da poco si vede che già un pro è un pro a brawl stars scrivete proprio pro a schutti ok certo prosciutti sono quelli forti quando hanno iniziato da poco se probabilmente i pro sbazano le persone più forti di tutti i giocchi perché i sciutti sono in abito e i pro sono i pro quindi i pro tutti abbiamo perso abbiamo perso ecco ecco no aspetta c'è bryon 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 che non la nostra miss si però a sopravvivenza in singolo ok ho sbagliato volevo mettere mazzini sta giocando alla nostra sarete che gioca da tantissimo da tipo due anni tre anni tre tre no no due ah sì tre perché iniziato il 2021 è giusto però ancora 7.000 qualcosa coppe 7.590 coppe non ho fatto a ricordarmelo boh allora lei è non ci vedo niente ci sono ancora 8 persone è un bel gioco però un vero è il più bello che c'è è il più bello che c'è no mi hanno chillato con il circo di vita qual è il vostro youtuber preferito qual è quello che odiate i miei contro te no vabbè guarda 999 coppe sai di una coppa non prendevi come me ne voglio una no vabbè dai questo è proprio una cosa diavolo tipo dentro il gioco c'è il diavolo che balla la macarena sapete quante volte mi è successo a me tutte le volte mi succede tipo contenta perché c'è un nuovo brawler no di una coppa non posso prendere mamma mia che kill che kill raga se continuiamo così sono felice sono molto felice ragazzi ragazzi sono veramente euforico ciao devo andare io si intanto finisco questa partitissima ciao finisco questa partita subito con 6 gemme ragazzi sto giocando io ve lo assicuro abbiamo la super pronta pronta meglio sopra meglio sopravvivenza ciao dobbiamo sempre fare le stesse cose sentite voce perché non sono da solo e mi serve un sacco di silenzio dobbiamo giocare allora dai continuiamo vai 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 allora mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia qualcosa mi dice che sto per morire qualcosa mi dice che sto per morire ragazzi ok si abbiamo parlato siamo giunti ad un accordo no 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 si 8 coppe si grado 3 si nuovo brawler millasette coppe si brock dai felicità allora il gioco sarebbe un tiratore selezioniamolo per provarlo un pochino vediamo se su foot brawl è promettente vediamo se gioca bene allora pronti ce ne sono due allora vediamo un po' ma lungo subito sono morto perfetto comunque mi piace perché ci sono i colpi lunghi cioè gira proprio guardate chilometri ci sono i colpi mamma mia quanto esce questo no mi servono colpi e vabbè ragazzi partiamo malissimo non so chi ha segnato mamma mia questo è buono ma ma questo si è chiamato non so chi allora uscita non so chi ha segnato eh vabbè vabbè direi che l'esordio di 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 sto tizio di che ancora è brocca se non sbaglio si chiama no? va non si è rivelato molto vabbè magari sarà più bravo in un altro campo ci provo mi ha senso in un altro ambito vabbè non voglio subito questo mi sa che meglio se con questo faccio sopravvivenza perché si in vantaggio io rimango fermo e aspetto che qualcuno si permetta ad uscire no 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 aspetta lo killo no aspetta che questo qui mi vuole killare dove esce questo si doppietta di di questo però abbiamo capito che non è il suo forte quindi andiamo sopravvivenza singolo forse forse allora va subito subito no 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 ora vede questo no subito 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 usciamo usciamo vabbè gioca ancora ci proviamo sempre e finiamo il video lì ti faccio vedere io ti faccio vedere io subito subito vabbè facciamo squadre e vediamo se cambia qualcosa se no davvero sono arrabbiato per questo dunque saluto capitanesse eh gli affari 18 vabbè saluto capitanesse stava nel video sto dicendo no no perdona bene 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 pronto morto vabbè ragazzi non mi va di fare di giocare ancora spero che questo video vi sia piaciuto ciao ragazzi